eccomi allora buongiorno ben ben ritrovati di cosa voglio parlare con voi oggi volevo siccome appunto mi chiedete spessissimo le varie differenze tra i coloranti e quant'altro volevo fare un discorso un pochino più generale un pochino più tecnico riguardo ai coloranti alimentari partiamo da facciamo partiamo dalla preistoria no nel senso innanzitutto i coloranti alimentari si dividono in due grandi categorie che sono i coloranti idrosolubili e i coloranti liposolubili ora i coloranti idrosolubili sono coloranti che si prestano a essere utilizzato per tutte quelle preparazioni a base di acqua quindi pasta di zucchero panna montata possiamo usarlo per le meringhe per la per la glassa reale per la ghiaccia reale e via discorrendo mentre i coloranti liposolubili sono coloranti che vengono utilizzati in per colorare preparazioni a base o di oli vegetali o di burro di cacao all'interno di questa grande ciao lisetta buon pomeriggio anche a te all'interno di questa grande distinzione abbiamo coloranti in formulazioni diverse le tre grosse formulazioni sono coloranti in polvere coloranti liquidi e coloranti in gel partiamo dalla categoria che diciamo quella che viene moltissimo utilizzata che sono i coloranti in gel coloranti in gel per definizione gel uguale gelatina sono coloranti che non esistono liposolubili esistono idrosolubili quindi i coloranti in gel sono quelli che vengono utilizzati per la colorazione io avevo anche delle domande che mi avete mandato quindi me le voglio tenere sott'occhio così man mano mi ricollego quindi i coloranti in gel sono coloranti idrosolubili sono coloranti che vengono utilizzati per come vi dicevo per colorare preparazione a base d'acqua quindi vengono utilizzati per la pasta di zucchero per la panna per il marzapane per la grassa per la glassa o vari tipi di impasti dico la verità l'ho sempre detto ciao tiziana l'ho sempre detto e lo ribadisco i coloranti in gel non sono tra i miei preferiti perché perché essendo a base gel contengono gelatina quindi che cosa succede che la gelatina va può andare a modificare la struttura interna del preparato su cui voi lo state utilizzando mi spiego vi ho appena detto che i coloranti idrosolubili sono molto indicati per la colorazione ad esempio della ghiaccia reale io qualche giorno fa ho letto una ragazza che su un gruppo chiedeva come colorare la ghiaccia reale e in coro si è alzata la il appunto il popolo in coro ha risposto coloranti in gel ora io vi riporto quella che è ovviamente la mia opinione legata a una a un'esperienza non è legge e ovviamente a volte posso sicuramente anche sbagliare ma ritengo che nonostante per la ghiaccia reale sia indicato un colorante idrosolubile utilizzare il colorante in gel non sia la scelta ideale perché perché è vero che il colorante in gel è utilizzato per colorare preparazioni a base acqua e quindi ghiaccia reale ma contenendo gelatina contenendo tutta una serie di stabilizzanti all'interno e di additivi vari la gelatina e i componenti che costituiscono il colorante in gel vanno a indebolirmi la ghiaccia reale quindi se io utilizzo la ghiaccia reale per fare del come si dice dei biscotti decorati o per dipingere o comunque delle situazioni a contatto ce ne possiamo anche fregare ma se devo fare la ghiaccia per lavorarla per creare delle decorazioni che magari sull'acetato sulla carta forno che poi vanno staccate vanno applicate secondariamente a una torta il rischio è che nel momento in cui poi voi andate a staccarle le decorazioni si scretolano perché non perché la ghiaccia non sia buona non perché non l'abbiate preparata bene non perché non l'abbia lasciato asciugare abbastanza ma semplicemente perché i componenti contenuti all'interno del colorante in gel sono andati a interferire sulla stabilità della ghiaccia quindi va bene che la ghiaccia richiede dei coloranti richiede o meglio è vero che per la ghiaccia sono più indicati coloranti idrosolubili ma dal mio punto di vista non i coloranti in gel ok poco esatto debbra è il discorso che io vi ho sempre fatto quando parliamo ad esempio di colorazione di pasta di zucchero io vi ho sempre detto che potete siete liberi di scegliere tra coloranti in gel e coloranti in polvere io personalmente ciao lorenza io personalmente non utilizzo mai i coloranti in gel cioè i coloranti in gel li ho proprio banditi per il semplice motivo che mi vanno ad alterare la struttura della pasta di zucchero perché comunque contengono acqua contengono gelatina quindi che cosa succede che mischiandosi alla pasta di zucchero la pasta di zucchero diventa molla diventa appiccicaticcia e via discorrendo quindi solitamente i coloranti in gel io li escludo proprio dal mio dal mio utilizzo ma questo non vuol dire che non siano buoni ok cioè che sia chiaro perché io non vi sto dicendo che una cosa non è buona una cosa è scadente assolutamente no semplicemente la mia esperienza mi ha portato a predilire determinati prodotti piuttosto che altri e sicuramente i coloranti in gel non sono tra i miei prodotti preferiti ok